Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Cosa andiamo a vedere oggi? Beh, considerando che la stagione invernale si sta pian piano avvicinando ma soprattutto condizioni di tempo non bellissime, quindi freddo, pioggia, neve e quant'altro, vado a recensire una softshell perché è un capo che ho trovato molto molto utile soprattutto in caso di freddo ma anche di temperature leggermente più basse ma anche di intemperie come pioggia, neve e quant'altro. Allora, questa qua intanto è prodotta dalla Miltec. Perché andare a recensire un prodotto della Miltec che qualcuno, anzi molti diranno sì ma è a buon mercato, non so se sia al massimo? In realtà mi sono trovato molto molto bene con questa softshell nonostante sia diciamo un prezzo molto accessibile perché lo si trova dei 35, 40, 45 euro in base ai negozi però comunque la trovate ed è, devo dire, che è ben ben realizzata. Allora, andando un po' a vederla partendo dall'inizio, allora intanto il colletto che è alto quindi protegge bene il colpo, il colpo scusate, il collo dal vento e dall'aria non ha il cappuccio. Qualcuno può dire, è però, una softshell senza cappuccio, è vero, però ho sentito anche tanta altra gente che dice, io il cappuccio non lo voglio perché è arrotolato sotto all'interno del colletto, mi dà fastidio. Ecco, effettivamente io lo uso con l'elmetto quando gioco in boschivo e mi son trovato non aver la necessità di andarlo a mettere, piuttosto metto un cappello con un lieve trattamento impermeabile, quindi devo dire che mi basta e mi avanza anche senza cappuccio. Mentre, il tessuto, che è quello più classico, chiamato skin shark delle softshell, è, devo dire, ben realizzato, molto molto morbido e sufficientemente elastico. Allora, cosa ha di bello, a differenza di alcune softshell che ho visto, è che le spalle e tutto l'avambraccio sono coperte, come potete vedere perché è leggermente più scuro, coperte completamente da questo nylon più spesso. Non è lo skin shark, ma è proprio, vero e proprio nylon, che comunque lo rende molto molto più resistente all'usura. Per carità, assolutamente non è da paragonare a marche più elevate, più costose o come tessuti in qualità migliore, tipo l'helicon texture e quant'altra, però devo dire che per il gioco del softshell e con il rischio di rovinarlo all'interno di un bosco, devo dire che è un buon compromesso tra qualità e prezzo. Rimaniamo sulle spalle, allora le spalle hanno poi la classica banda velcrata con la tasca interna per tutti gli accessori che volete, ma soprattutto tutta questa parte qua è un unico tascone da cui si può accedere dalla parte inferiore. Se volete mettere delle imbottiture, delle protezioni e quant'altro, qua c'è la possibilità di metterlo. Non tutte le marche hanno questa predisposizione qua, poi qualcuno può metterla, qualcuno no, però per carità, c'è. Nell'altra manica chiaramente è uguale, non sto lì a presentarla perché è uguale. La parte del torace invece ha veramente una marea di tasche, una cosa che non mi aspettavo perché ne ha veramente tante. Infatti ne ha una, due, queste due non sono la stessa, infatti le mani non si toccano, sembra un po' una magia però. Sono già due tasche qua, due da questa parte e la stessa cosa all'interno ha queste altre due tasche che sono ancora diverse da queste due. Hanno poi una zip che le può far comunicare, però se contate solo su questa parte qua ci sono uno, due e tre tasche. Quindi veramente tantissimo spazio per mettere accessori, documenti e qualunque altra roba vogliate. Sulle maniche invece c'è comunque sempre la zip per la reazione sotto il braccio, quindi se avete l'ascella che lacrima un pochino di più del normale, c'è comunque la zip che vi permette di aprire e effettivamente lo usate in giornate dove pioveva ma leggermente più calde e devo dire che funziona molto bene, è molto comoda questa zip sotto l'ascella, comunque rinfresca un pochino. Poi invece intorno al colletto come vedete ci sono questi due lembetti che permettono, come potete vedere, il passaggio all'interno di auricolari, piuttosto che il PDT o la cuffia, quindi qualunque altra roba mi interessa far passare per passare direttamente all'interno e questo è un'altra cosa che non molte hanno, però lo trovo anche questa veramente comoda. I due velcri, vabbè, per il nome o quello che volete metterci, mentre nella parte inferiore, come potete vedere, ci sono le due classiche tasche per le mani e sono all'interno tutte ricoperte di un micropile che comunque in caso di freddo un po' funziona come per riscaldarsi, quindi basta mettere dentro e devo dire che a differenza di queste qua che hanno solo il nylon, la funzione ce l'hanno. Nella parte laterale invece cosa abbiamo? Abbiamo le due zip che aprono completamente i fianchi, in caso si vada a utilizzare la fondina sul cinturone laterale questa permette di poter aprire ed utilizzarla. Mentre passiamo all'interno. L'interno cos'è? È tutto ricoperto da questo micropile, quindi oltre alla Skin Shark anche dietro devo dire che il micropile all'interno non è un micropile eccessivamente pesante, però devo dire che tiene comunque abbastanza bene il calore senza andare ad aggiungere eccessivi capi di abbigliamento sotto per mantenere il calore questo qua basta e avanza anche solo con una, se andate tanto in giù con le temperature, anche solo una maglia termica basta già a dare una buona copertura contro il calore poi nella parte interna chiaramente tutto micropile che è comunque completo abbiamo nella parte centrale i lacci per poterlo regolare, poterlo stringere di più ma anche al fondo ci sono come potete vedere i quattro lacci per andare a stringere mentre nella parte posteriore, adesso ve la giro, scusate, voilà ok, c'è questa tasca qua che è rifinita esattamente come le maniche con lo stesso nylon quindi leggermente più resistente che quindi va a impedire un po' l'usura di questo punto qua che è generalmente quello che si consuma un po' di più ha questa, quindi è una pratica tascona enorme, gigante che devo dire che comunque può essere utilizzata, può essere comoda e quant'altro non so se volete utilizzarla, io l'ho trovata scomoda però è grossa e roba ce n'è in più ha questo vano qua coi velcri e come potete vedere che non ho idea di cosa serva e sì, questo purtroppo non l'ho capito perché non collega con l'interno quindi pensavo fosse quello per la reazione ma non ha un minimo di niente dentro forse non so neanche per coprire uno zaino perché le maniche vanno, le bratelle vanno sopra quindi non lo so, aiutatemi se sapete cosa serve scrivetelo nei commenti e poi piuttosto lo aggiungo alla recensione però non ho idea di cosa serva abbiate pazienza, non l'ho ancora capito comunque, che dire è una bella softshell contando il prezzo che la si paga è chiaramente sui 35-40 euro se volete un buon prodotto su quella fascia di prezzo chiaramente, allora questa softshell è quello che fa al caso vostro attenzione, piccoli difetti da tenere in considerazione anche nell'acquisto sono le zip che, devo essere sincero non sono esattamente il massimo ci sono altre repliche scusate, altre softshell che hanno zip decisamente migliori queste qua non sono proprio il top del top sono tutte quante girate al contrario come si vede ormai in molti capi ma la cosa, oltre alla qualità della zip che per carità lascia un po' il tempo che trova però comunque chiude, funziona se le tiri su, le chiusure tengono sono solo un po' dure da azionare quello si l'altro difetto invece, non da poco ma da tenere in considerazione sono queste due zip qua perché? perché se si va a usare sopra un plate carrier come un Ciras o un più classico 6094 comunque con le piastre balistiche interne cosa succede? queste due zip qua, più quelle interne alla lunga si vanno a conficcare nel torace ve lo dico per esperienza personale perché l'ho usato col 6094 e dopo diciamo un'ora e mezza due ore di gioco queste qua me le son trovate praticamente conficcate nel torace e mi davano un pochino di fastidio è chiaro che l'ho usato solo quella volta lì perché generalmente come avete visto negli altri video io in boschivo uso solo il setup un setup più leggero con un mini chest il D3CR quindi queste qua non mi danno grossi problemi però quella volta che l'ho utilizzato col 6094 questo problema mi è venuto fuori quindi fate attenzione prendetelo in considerazione perché se fate giocate lunghe è chiaro che se fate giocate lunghe probabilmente il 6094 non lo userete però se fate giocate lunghe anche già solo di 4-5 ore sappiate che questi qua con il plate carrier sopra possono creare qualche problema una cosa che vi ho piacere di dirvi di fare attenzione bene ragazzi cosa dire? la recensione finisce qua il capo è sicuramente consigliato come potete vedere c'è il logo Miltec quindi il capo è sicuramente consigliato molto molto valido ah dimenticavo cavolo dimenticavo la manica al fondo oltre a avere cosa che ha l'ho dimenticato perché l'altro non ne hanno oltre a avere il classico velcro in regolazione in gomma molto particolare e bella identificativa delle softshell ha l'interno della manica che può essere che si inserisce nella mano infatti ha una funzione antivento molto molto valida è chiaro che basta anche solo liberare il pollice che questo tessuto in più comunque non dà fastidio non va a imbrogliare però ha questa cosa in più che ho trovato in caso di vento e non utilizzate i guanti veramente veramente comoda comunque adesso vado in conclusione per concludere è una buona una buona softshell utilizzabile veramente in tutte le condizioni di freddo acqua ho preso anche abbastanza acqua e devo dire non mi sono bagnato più di tanto chiaro non è un poncio attenzione non è un poncio quindi se state proprio sotto l'acqua battente alla lunga un po' d'acqua filtra però oddio nei limiti della della cosa e basta la recensione finisce qua la giacca è questa se avete domande fatele ci saranno tanti altri video altre recensioni se avete dubbi chiedete se no grazie di aver seguito un like e ben accetto grazie e alla prossima